Lievito Madre Licoli a coltura liquida Io sono Andrea Di Giglio, chef e pasticciere professionista dal 2004 Attraverso i miei videocorsi aiuto sia appassionati, pasticceri, professionisti e tutte le persone interessate alla pasticceria di qualità a diventare molto più abili e molto più bravi come un pasticciere professionista Infatti mi sono preso il compito di realizzare percorsi formativi trovi il link in descrizione pasticceria di base, pasticceria lievitata, pasticceria classica e moderna pasticceria da forno, quindi vedremo sia le basi se sei un aspirante pasticcero, un appassionato e invece se vuoi fare l'upgrade e diventare molto più bravo abbiamo pasticceria lievitata, piccole e grandi lievitati pasticceria moderna, torte, torte classiche, torte moderne, monoporzione mignon e abbiamo pasticceria da forno con torte da forno, cake, biscotteria e crostate quindi tutto quello che è la pasticceria l'ho gruppato in questi accademi online con l'opportunità di vedermi all'opera e di capire la pasticceria a 360 gradi qui sotto c'è il link per parlare anche con la mia assistente per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità o per capire quali sono poi i percorsi più adatti a te ad ogni modo in questo video parliamo del lievito madre licoli lievito madre licoli ovvero lievito madre a coltura liquida il lievito madre licoli è un mondo a parte molti pensano che utilizzare un licoli, utilizzare un lievito madre tenuto solido utilizzare un lievito madre in sacco è la stessa cosa in verità non è così si sa che ogni lievito madre come ho spiegato nell'anteprima di questo percorso ho già realizzato vari video sul lievito madre c'è il video lievito madre solido, gestione in acqua, libero, legato e questo è il licoli ho già spiegato anche nell'introduzione che ogni lievito ha un microbiota diverso il microbiota che cos'è? l'insieme dei batteri e dei lieviti che vivono all'interno del nostro impasto ce l'abbiamo anche nell'intestino e sono questi batteri che vivendo all'interno di questo impasto hanno delle funzioni, producono delle sostanze ovviamente diverse in base alla quantità se sono più batteri lattici producono più acido lattico se sono più batteri acetici producono più acido acetico se sono più lieviti producono più fermentazione alcolica quindi è molto importante capire che il licoli avendo un'idratazione generalmente al 100% se nel lievito madre solido le idratazioni variano tra il 45 e il 50% di media nel lievito madre liquido abbiamo un'idratazione del 100% cioè cosa vuol dire? 1 di lievito, 1 di farina, 1 di acqua quindi 1, 1, 1 anche se adesso la tendenza è a scendere di idratazione perché si è visto che alte idratazioni stimolano molto i lieviti stimolano molto la parte lattica soprattutto con il calore e il licoli infatti è di facile gestione se si mette in frigorifero altrimenti è un lievito che tenuto ad alte temperature può creare dei problemi perché il lievito licoli avendo molta acqua ha una concentrazione di lieviti maggiore infatti è un lievito che dà una grande propulsione, una grande spinta si usa soprattutto nella panificazione ha un grande gusto perché ovviamente dove c'è acidità lattica c'è più gusto l'acidità lattica dà gusto, dà conservazione ma se è in eccesso dà un gusto che non è buono, tendenzialmente amaro l'acidità lattica ad esempio ha gusto ma non ha odore l'acidità acetica ha odore, si sente al naso e pizzica leggermente alla bocca sì però la lattica si riconosce soprattutto degustandola perché l'acidità lattica se è in eccesso è amaro altrimenti dà gusto ma fa un effetto un po' chewing gum in bocca si appiccica un po' alle pareti del palato l'acidità è importante che sia in equilibrio in un licoli è molto più spinto di lieviti quindi è un lievito che tendenzialmente è meglio che stia in frigo è un lievito che si rinfresca, si mette in frigo e ha anche bisogno meno di rinfreschi perché se ad esempio un lievito madre tenuto in acqua o nel sacco o libero va rinfrescato quotidianamente per avere forza un licoli, siccome la presenza dei lieviti è maggiore di quella dei batteri può essere rinfrescato anche ogni 4 giorni ogni 2-3 giorni e comunque quando si va a prendere è un lievito che rimane abbastanza in forma se ad esempio noi facciamo un... dobbiamo fare produzione di panettoni e utilizziamo un lievito madre in acqua o un lievito madre nel sacco se noi lo teniamo in frigo per 3-4 giorni un lievito madre solido lui perde potenza e poi rischiamo che gli impasti non salgono non vengono, ci sono blocchi degli impasti perché ovviamente quando un lievito sta in frigorifero cosa succede? Che la carica batterica crolla i lieviti fermano la loro azione perché sotto i 24 gradi già i lieviti iniziano ad accelerare e quindi cosa succede? Che un lievito diventa debole mentre invece un licolinò siccome ha più quantità di acqua comunque all'interno ci sono più lieviti e anche preso dal frigo rinfrescato ha una buona spinta è comodo, non c'è scarto, praticamente niente si chiama lievito in crema perché ovviamente è come una crema questo lievito la comodità è che si rinfresca uno a uno a uno si può utilizzare in planetaria con foglia a incordatura dove si ossigena leggermente di più oppure semplicemente con una frusta o con un cucchiaio il metodo casalingo ed è un lievito che anche lui deve sviluppare ma non come lievito nel sacco o lievito solido diciamo sia in acqua nel sacco libero che va portato due volte mezza due volte sette fino al triplico come la vecchia guardia adesso diciamo il licoli si utilizza fino al raddoppio ecco in verità si può portare anche 05, 06, 07, 08 o al raddoppio cioè cosa vuol dire una volta e mezza una volta e sette una volta e otto o al raddoppio in linea generale si porta al raddoppio ok? però da esperienza personale se stiamo anche una volta e sette una volta e otto una volta e sei lo prendiamo un po' più giovane c'è anche il rischio che gli impasti vengono meno forti il licoli pinge molto è un lievito molto potente la conservazione è meglio in frigo la facile gestione perché effettivamente rinfrescandolo anche non tutti i giorni ma un giorno sì un giorno no almeno due volte a settimana è un lievito che mantiene la sua potenza è un lievito comodo con poco scarto io faccio vedere nel corso pasticcere rivitata come fare anche la colomba altri anche croissant così diciamo che il licoli lo consiglio più per panificazioni se volete fare un pane comune un pane semplice una pizza se dovete perché porta molto gusto o viene oserimista quindi se fate esempio come nel corso faccio vedere il croissant con il licoli un po' di licoli e un po' di lievito di birra grandi lievitati ecco adesso è molto di moda si sta usando molto bene per fare grandi lievitati come insegno nel corso secondo me per chi ha poca esperienza è meglio partire con un lievito madre solido soprattutto in acqua facile gestione e di facile uso il licoli invece è molto buono ho anche proprio recentemente una corsista ha fatto il panettone con la mia ricetta con il licoli è venuto molto bene ovviamente però sappiamo che avendo più lieviti tendenzialmente tendenzialmente è un lievito che consuma più zuccheri quindi se consuma più zuccheri è un lievito che tende a a una minore conservazione cioè qual è la differenza tra il lievito di birra e il lievito madre il lievito di birra è il saccharomyce cerevisia o il lievito compresso è un lievito il saccharomyce cerevisia consuma zucchero ok se voi fate un prodotto con il lievito di birra si secca subito se voi fate un croissant con il lievito di birra lo fate la mattina la sera è già secco ok perché avete utilizzato il lievito di birra se utilizzate lievito di birra più lievito madre arriva la sera che magari non è così secco o magari dentro una busta può durare anche un paio di giorni se utilizzate solo lievito madre magari confezionato vi può durare anche 3-4 giorni un croissant perché se più lieviti ha un impasto più tendenzialmente asciuga il prodotto meno lieviti e una buona quantità di batteri più lo umidifica più aumenta la conservazione si tende a dire che il licoli secca gli impasti io parlo per esperienza mia personale e professionale ho notato che utilizzando lievito madre solido o utilizzando lievito madre liquodi volevo proprio vedere questa cosa se era vera e mi sono accorto che effettivamente con un lievito madre solido soprattutto gestione piemontese che è quella che consiglio per chi parte rispetto a un licoli quello con il licoli uno se non state attenti rischiate che il prodotto sappia un po' eccessivamente di limone due che si asciuga un po' prima ora si possono fare panettone colomba con licoli si lo faccio vedere nel corso certo che si può fare se studi se impari se capisci come funziona se capisci che le temperature del licoli devono essere più basse di un lievito madre solido se capisci determinate cose si altrimenti un lievito madre solido e sicuramente ti dà dei risultati più come posso dire più continuativi mentre invece il lievito madre liquido potrebbe dare risultati alterni perché la sua gestione deve essere fatta da persone che sanno esattamente che lo conoscono l'hanno imparato a domare e allora va bene utilizzare anche il licoli sicuramente ha un'ottima spinta sicuramente meglio utilizzarlo tenerlo in frigo generalmente il licoli si tiene in frigo la mattina si prende dal frigo si miscela con acqua calda in questo caso 35-40 gradi e farina in modo tale da farlo partire lui massimo in 3 ore sviluppa 3-4 ore ecco sviluppa il raddoppio e si può utilizzare si può utilizzare in verità non al raddoppio anche prima come ho detto 08-0706 si può usare il licoli 05 anche c'è chi lo usa ed è una facile gestione però si è sempre utilizzato per panificazione perché ha un'ottima spinta è facile da utilizzare quindi pizze focacce e pane se ne utilizza generalmente 150-200 220 grammi per chilo di farina un po' meno del lievito madre solido perché appunto ha più lieviti ed è fondamentalmente un lievito comodissimo per casalinghe persone che sono a casa che vogliono usarlo in casa che non vogliono impazzire che non vogliono togliere la crosta che non vogliono pulire perché il lievito ovviamente legato è un po' più rognoso perché va pulito va accudito molto di più un lievito anche quello metodo piemontese è comodo ma comunque c'è la caraffa da lavare comunque si discioglie un po' gli amidi sporca un po' e quindi il licolì è comodo perché si prende questo si mette all'interno di solito dello shaker si prende un po' si miscela ed è facile da utilizzare però bisogna conoscerlo bisogna sapere cosa sta facendo quindi è importante l'idratazione generalmente va al 100% su peso farina anche se adesso si sta tendendo a fare un 90% quindi non 100% quindi percentuali di farina generalmente 1-1-1 si può fare anche 1-2-2 ok è un po' acido quindi più farina più acqua è un lievito che va conservato in frigorifero assolutamente perché lasciato fuori acidifica la velocità della luce oppure anche in una cantinetta a 16-18 gradi però comunque rischiamo che le acidifiche e le percentuali di acqua l'abbiamo detto e le temperature ovviamente dai 20 ecco le temperature le temperature se in un lievito madre solido possiamo mettere anche il lievito madre a 30 gradi in camera di lievitazione un lico lì dalla mia esperienza bisogna stare un po' più bassi quindi bisogna stare tra un 24 e un 26 gradi un po' più lenta perché già lui spinge di suo quindi se noi lo mettiamo al caldo sviluppa anche troppo dopo quindi temperature leggermente più basse ed è molto comodo molto comodo io ho fatto prodotti a lievitazione mista nel corso ed è un prodotto veramente comodo ad ogni modo questa lezione è un po' sul lico lì se ti interessano le mie lezioni e vuoi approfondire qui sotto trovi il link per accedere direttamente al percorso completo che è pasticceria lievitata un percorso con oltre 50 video lezioni hai la mia assistenza per qualsiasi dubbio domanda o perplessità e ti lascio anche qui sotto il tasto per parlare con un mio assistente per capire magari anche quali sono i percorsi più adatti a te per capire come evolvere in pasticceria quindi ci vediamo al prossimo video